Non sapremo quanto ha deciso fino a venerdì, ma da questi incontri è maturata una scelta che magari prima non c'era? Assolutamente sì, io sono davvero contento e soddisfatto di queste consultazioni, consultazioni soprattutto perché hanno partecipato alle consultazioni non soltanto i rappresentanti delle liste, ma tutti i consiglieri comunali e anche qualche rappresentante al di fuori dei consiglieri. Ognuno di loro ha messo in evidenza gli aspetti positivi, negativi, suggerimenti, le proposte anche programmatiche di programma per tutto il 2016 e per il futuro. Quindi davvero consultazioni che ritengo molto utili per quello che saranno poi le scelte che io nei prossimi giorni, quelle conclusive e definitive, dovrò andare a fare. Gli aspetti fondamentali sono fondamentalmente tre, li possiamo racchiudere in tre aspetti. Chiarezza nella formazione delle liste, questi incontri sono serviti a capire che in questo momento ci sono sei gruppi che sono in maggioranza, c'è una lista Fratelli d'Italia che non è in maggioranza ma che ha espresso la volontà a voler rientrare in maggioranza, e il secondo aspetto è un aspetto importante che è il bene comune, mettere da parte o in secondo piano quello che è il discorso degli assessorati, delle deleghe, perché non sono questo l'obiettivo di un'amministrazione, ha l'obiettivo di risolvere i problemi della città. E come terzo aspetto è la stabilità. Tra le consultazioni, venerdì scorso si è svolto l'incontro con il gruppo del nuovo centrodestra e soddisfazione è stata espressa dal consigliere Giorgio D'Ignazio, evidentemente per qualche conferma già ricevuta. Chiaro che la nostra componente di giunta, noi chiediamo che venga riconfermata, il sindaco ha avuto parole di elogio nei confronti dell'operato dei nostri assessori e questo ci ha fatto fortemente piacere, quindi sotto questo punto di vista non ha presentato nessun problema particolare, tutti e tre gli assessori stanno lavorando bene, anche il gruppo consigliare rimasto è affidabile e sicuro, quindi si vedrà, è chiaro che per noi è importante che venga riconfermata, e vengono riconfermati tutti e tre gli assessori, parliamo quindi dell'assessore Cozzi, dell'assessore Tancredi, dell'assessore Misticoni e poi soprattutto di un rilancio dell'azione politica del sindaco, sicuramente l'amministrazione comunale di Teramo sta facendo meglio delle altre amministrazioni comunali a mio avviso, che sono quelle di Chieti, di Pescara e dell'Aquila e soprattutto in maniera particolare riguardo al nostro territorio provinciale, mi sembra che il sindaco di Giuliano abbia ben altri problemi, assessori che si rimettono, insomma sotto questo punto di vista credo che la nostra tenuta di maggioranza sia più forte.